bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti io sono elisa true crime e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata oggi parliamo di un caso molto famoso e molto inquietante oggi parliamo di quello che viene definito come il primo serial killer d'america l'uomo conosciuto come h h holmes colui che per soddisfare la sua sete di uccidere si dice abbia addirittura costruito un intero castello della morte prima di cominciare amici però siete pronti per lo sponsor più figo e azzeccato di sempre the devil in me il nuovo gioco della saga di the dark pictures che trovate disponibile per playstation 4 e 5 xbox e pc the devil in me ispirato proprio alla vicenda di h h holmes vede la troupe di un documentario ricevere un misterioso invito a visitare la riproduzione del castello della morte proprio del serial killer h h holmes di cui vi parlerò nel video di oggi per loro è un'occasione da non perdere per farsi finalmente conoscere dal grande pubblico l'hotel è lo scenario perfetto per il loro nuovo documentario ma non tutto è come sembra presto scopriranno che qualcuno li sta osservando e persino manipolando e che le visualizzazioni dei loro video non sono l'unica cosa di cui devono preoccuparsi vi ritroverete quindi su un'isola remota nell'esatta riproduzione del castello di h h holmes pieno di trappole labirinti e camere mortali nelle quali sarete proprio voi a scegliere come far sviluppare il gioco che avrà esiti diversi basati su come deciderete di agire i giochi di the dark pictures sono una serie di giochi horror indipendenti con narrativa ramificata dallo sviluppatore di until dawn the devil in me è l'episodio finale di un'antologia horror che racchiude altri tre capitoli in cui ogni gioco diverso per ambientazioni e personaggi è ispirato ad un diverso genere horror un'esperienza adatta a brevi sessioni da giocare soli in multiplayer oppure online trovate il link come sempre qua sotto nella descrizione del video prego non c'è di che e ora amici rimanendo sempre in tema continuiamo con la storia di oggi oggi vi parlo di h h holmes un uomo di origini statunitensi il quale è definito il primo e forse il più celebre serial killer del diciannovesimo secolo considerato dai moderni criminologi come uno dei più prolifici e depravati assini seriali che la storia degli stati uniti abbia mai conosciuto anche se come vedremo più avanti nel video potrebbe non essere proprio così il suo vero nome in origine era herman webster madgett che poi lui stesso ha cambiato in h h holmes ovvero henry howard holmes ma soprannominato dalle cronache con nomi tipo l'arci demonio o il dottor morte insomma la persona di cui parleremo oggi aveva un certo caratterino diciamo così ma come sempre iniziamo questa storia dall'inizio sarà un viaggio lungo e tortuoso amici quindi preparatevi herman webster madgett nasce il 16 maggio del 1861 quindi ci troviamo nel secolo scorso a gilmonton nello stato del new hamshire negli stati uniti herman viene da una famiglia benestante ed è il terzo genito di cinque fratelli per ripercorrere e provare a capire l'origine del suo male possiamo partire da alcuni episodi legati alla sua infanzia herman infatti da bambino è più volte vittima sia delle violenze del padre il quale aveva seri problemi di alcolismo che di veri e propri atti di bullismo durante il periodo scolastico da parte di molti dei suoi compagni di classe molto probabilmente invidiosi dei suoi ottimi voti a scuola era infatti uno studente modello particolarmente dotato e dimostrava di possedere una discreta intelligenza viene descritto come un bambino dal carattere mite molto tranquillo persino timido un bersaglio perfetto per i bulletti della sua scuola che non gli risparmiavano angherie di ogni tipo per esempio una volta viene costretto a toccare lo scheletro che si trovava nello studio del dottore da cui tra l'altro herman era completamente terrorizzato perché dovete sapere che per quei tempi era normale trovare per esempio negli studi dei dottori ma credo anche nelle scuole tipo nell'aula di scienze degli scheletri che erano scheletri veri non erano riproduzioni di plastica si trattava di scheletri veri di persone che avevano scelto di donare il proprio corpo alla scienza dopo la morte ecco quindi alcuni dei bambini più grandi che bullizzavano herman un giorno lo avevano chiuso nello studio del dottore proprio lo studio da cui lui era terrorizzato e lo avevano costretto a proprio abbracciare questo scheletro e a toccarlo e pare che questo episodio lo abbia segnato profondamente probabilmente è proprio da questo episodio che inizia a sviluppare degli interessi morbosi da quel fatto la sua personalità comincia a cambiare e si fanno sempre più strada in lui pensieri perversi e criminali di ogni tipo crescendo comunque quel bambino insicuro diviene un uomo molto sicuro di sé perlomeno all'apparenza era come se herman si sentisse sempre più intelligente di tutti nonostante non riscuotesse molto successo diciamo che non era una di quelle persone che riuscivano ad eccellere in tutto quello che faceva nel 1878 appena maggiorenne si sposa con una ragazza di 17 anni di nome clara lovering una ragazza giovane molto bella intelligente e figlia di un uomo molto importante ma nonostante tutto ciò per qualche motivo herman non l'apprezzava più di tanto infatti pare l'abbia tradita svariate volte oltre a sminuirla di continua sentendosi appunto superiore anche a lei oltre che a tutto il resto del mondo ma come già detto prima la realtà è che herman aveva serie difficoltà ad avere successo nella vita e di conseguenza riusciva a malapena a mantenere la sua famiglia nel 1879 lui e sua moglie clara hanno un figlio robert e herman riusciva a stento ad arrivare a fine mese costringendo sua moglie clara ad andare a lavorare cosa per niente comune per quei tempi è proprio in questi anni che herman inizierà a sentirsi attratto dall'anatomia dei corpi e questa è una cosa che ho trovato veramente strana perché vi ricordate herman da piccolo era terrorizzato dai dottori aveva una vera e propria fobia ho letto che sotto casa sua per esempio c'era lo studio di un dottore il dottor naim white e herman non riusciva neanche a passarci davanti da quanta paura aveva ebbene da un certo punto in poi inizierà a farsi strada dentro di lui il desiderio di studiare per diventare proprio un dottore e nel 1880 inizia un apprendistato nello studio del dottor naim white proprio lo stesso dottore dello studio sotto casa sua quello da cui era terrorizzato herman però non ci sa proprio fare con le persone non gli piace prendersene cura e non gli frega niente di curarle lui voleva diventare un dottore solo ed esclusivamente per lo status voleva a tutti i costi che la gente lo vedesse come un uomo importante herman era un uomo molto molto avaro e ovviamente un altro motivo per diventare medico era soddisfare la sua fissazione per l'anatomia umana voleva imparare come erano fatti i corpi voleva farli a pezzi guardare cosa ci fosse dentro voleva fare questo genere di esperimenti e per questo motivo era perfetto come apprendista per il dottor white che tra l'altro era un grande sostenitore della dissezione dei corpi che ai tempi era un argomento ancora molto controverso infatti pensate che a quanto pare a quei tempi dato che non c'erano molti corpi su cui fare pratica perché non c'erano tante persone disposte a donare il proprio corpo alla scienza dopo la morte i dottori o gli studenti di medicina arrivavano persino a trafugare le tombe di notte nei cimiteri per procurarsi i cadaveri o comunque pagavano qualcuno che lo facesse per loro si dice infatti che herman e il dottor white lo facessero si dice che andassero nei cimiteri a trafugare le tombe per poter prendere i corpi per i loro esperimenti anche se ovviamente questa è un'informazione che non possiamo confermare e in realtà amici sono davvero poche le informazioni certe su questo caso primo perché si tratta di un caso davvero troppo vecchio e secondo perché ai giornali è piaciuto un sacco inventarsi o amplificare le notizie su hh holmes e nel tempo è diventato difficile riconoscere i fatti dalla fantasia comunque herman si iscrive alla facoltà di medicina all'università del vermont costretto ad abbandonarla dopo solo un anno perché non aveva i soldi per pagare la retta ma fa di tutto per terminare gli studi come già detto herman voleva diventare un dottore a tutti i costi quindi si iscrive ad un'altra facoltà di medicina questa volta nel michigan e fa qualsiasi genere di lavoretto per potersela permettere e infine nel 1884 all'età di 24 anni si laurea alla university of michigan medical school ma si laurea per un pelo perché non era uno studente particolarmente brillante e secondo quanto dicevano alcuni studenti pare che herman mettesse tutto il suo impegno solamente sul dissezionare corpi corpi di animali ma anche di esseri umani alcuni studenti compagni di università di herman raccontano di quanto lui fosse fissato con i cadaveri parlava solo di quello pensava solo a quello e una volta addirittura aveva chiesto ad un suo professore se poteva portarsi a casa il corpo di un bambino che a quanto pare avevano lì a scuola così da poterci fare degli esperimenti sopra durante le vacanze e pare che questo professore gli abbia detto di sì e gliel'abbia dato e herman l'aveva poi nascosto sotto al suo letto e una volta la sua padrona di casa per qualche motivo era entrata nel suo appartamento e mentre gli puliva casa aveva trovato questo corpo di questo bambino sotto al suo letto immaginate a questo punto amici herman e sua moglie clara stanno ancora insieme hanno un figlio robert ma come già detto questo matrimonio non andava a gonfie vele per niente herman tradiva clara e non la trattava affatto bene pensate che appunto clara era costretta a lavorare tutto il giorno solo per mantenere gli studi del marito e appunto per quanto oggi sia una cosa normale lavorare per le donne a quei tempi non lo era affatto ricordatevi che ci troviamo nel 1800 clara aveva un figlio piccolo di cui non poteva occuparsi lavorava tutto il giorno come sarta per mantenere il marito e nonostante tutto herman la sminuiva tantissimo dicendole che se a scuola non riusciva ad eccellere era colpa sua che per colpa sua di clara lui era troppo frustrato e questo incideva sul suo rendimento scolastico sicuramente era colpa di clara sì quindi ad un certo punto la donna chiaramente decide di prendere il loro figlio robert e di andare a vivere a casa dei suoi genitori quindi lei e herman si separano ma non divorziano non divorzieranno mai legalmente dopo la laurea herman si trasferisce in una piccola cittadina nello stato di new york di nome moore's forks e lì trova lavoro come insegnante e come medico ma come già detto a lui non fregava niente di curare la gente o di fare del bene lui voleva solo potere e soldi tanti soldi possibilmente soldi facili inizia infatti a truffare la gente quindi come potete vedere in qualche modo il suo lato criminale inizia ad emergere per esempio ad un certo punto in quella città si verifica una piccola epidemia di vaiolo allora herman ordina una grande quantità di vaccino per il vaiolo e inizia a venderlo porta a posto fingendosi uno dei del ministero della salute e convincendo tutte le persone che il vaccino fosse obbligatorio per legge e che se non lo avessero comprato e pagandolo profumatamente avrebbero avuto seri guai con la legge cosa falsa ma ovviamente la gente lo compra oltre questa herman compie una varietà di altre truffe comprese truffe legate all'assicurazione sulla vita delle persone per esempio una volta herman aveva convinto un suo vecchio collega amico ad aiutarlo il loro piano era prendere un tizio che herman conosceva che aveva moglie e un figlio e inscenare la loro morte utilizzando sempre i cadaveri che ormai sapeva come procurarsi no trafugando le tombe al cimitero quindi appunto il loro piano era inscenare la morte di quest'uomo moglie e figlio sostituendoli con tre corpi che che holmes si sarebbe procurato e che avrebbe sfigurato così da renderli irriconoscibili ai tempi ovviamente non esisteva il test del dna e tutto questo dopo essersi fatti mettere come beneficiari delle assicurazioni per poi incassare i soldi appunto delle assicurazioni e dividerseli tra loro ora suppongo che a quei tempi fosse molto più semplice fare queste cose questo genere di truffe perché non esisteva appunto il test del dna non esistevano tutta una serie di cose per cui probabilmente se piazzavi tre cadaveri a caso nella casa di qualcuno nessuno avrebbe mai dubitato che quelli non fossero effettivamente i padroni di casa anche se da quello che ho letto comunque anche a quei tempi non era così semplice effettuare con successo questo genere di truffe infatti herman è costretto a cambiare costantemente città per non farsi mai beccare ed è proprio a questo punto amici che herman decide di cambiare nome e da herman webster madgett diventa il famigerato henry howard holmes meglio conosciuto come h h holmes ma holmes non decide di cambiare solo il nome cambia proprio un po tutta la sua personalità il suo modo di vestire capisce di dover diventare più estroverso e alla mano solo così poteva piacere di più alla gente solo così poteva truffare più gente intorno al 1885 holmes conosce una donna di nome myrta belt nap con cui si sposa ma se vi ricordate holmes non ha mai divorziato legalmente da clara la sua prima moglie quindi si sposa con questa myrta pur essendo già sposato e con lei si trasferisce a chicago qua holmes continua a truffare la gente e immagino abbia finalmente trovato qualcosa in cui è discretamente bravo l'essere disonesto e il mentire era bravissimo a mentire amici su questo non c'è dubbio praticamente fingeva di essere un esperto in finanze e fingeva di aiutare le persone a risollevare i loro affari le loro attività per poi in realtà non fare altro che rubargli soldi e mandarli in rovina un giorno gli capita di leggere un annuncio su un giornale una donna anziana la signora holton scrive che stava cercando un aiutante per la sua farmacia viste anche le precarie condizioni di salute del marito holmes risponde immediatamente alla donna offrendosi anche di prestare cure al marito gravemente malato si presenta quindi all'anziana signora in modo elegante conquistando così la sua fiducia era infatti un giovane di bell'aspetto e dai modi educati caratteristiche che aveva imparato a emulare a fingere e che nel corso della sua macabra vicenda lo faranno sempre apparire come una persona per bene di conseguenza insospettabile comunque holmes ovviamente inganna l'anziana l'anziana donna le promette di aiutarla di aiutarla nella gestione della farmacia le promette di risollevare l'attività ma in realtà ovviamente il suo piano era un altro infatti quando il marito dell'anziana donna poco tempo dopo muore per via della sua malattia anche se teoricamente potrebbe anche averlo ucciso holmes per quanto ne sappiamo avrebbe potuto avvelenarlo o comunque accelerare il corso della sua malattia comunque quando il marito muore holmes fa sparire l'anziana signora che potrebbe essere stata proprio la sua prima vittima per poi diventare il proprietario dell'attività a questo punto amici holmes grazie ai soldi guadagnati dalle varie truffe e dalla farmacia decide di acquistare un ampio appezzamento di terreno proprio di fronte la farmacia e lì inizia la costruzione di un grosso edificio nel progettare questa dimora viene aiutato da un altro truffatore senza scrupoli che diventa successivamente il suo collaboratore il suo assistente diciamo un uomo di nome benjamin pietzel holmes cura tutto il progetto di questo edificio nei minimi dettagli l'imponente costruzione inizialmente era su due piani al secondo piano c'erano degli appartamenti che holmes affittava e in uno di questi alla fine ci andrà a vivere lui stesso insieme alla moglie myrtle e al primo piano c'era una farmacia vari negozi un ristorante aggiunge la notizia che nel 1892 a chicago si sarebbe organizzata una fiera importantissima ovvero la fiera mondiale la world fair che avrebbe attirato in città migliaia di persone si trattava di una fiera molto molto importante di conseguenza a hh holmes si accende una lampadina avrebbe costruito un terzo piano al suo edificio costruendo delle camere d'albergo per ospitare tutti quei visitatori che sarebbero arrivati in città per la fiera per fare ciò ovviamente aveva bisogno di soldi ma se c'era una cosa in cui lui era bravo come abbiamo visto era l'estorcere denaro alla gente o il convincerli a fare investimenti in suo favore convince infatti un certo dottor lawrence un uomo che viveva in uno degli appartamenti che holmes affittava nel suo castello ad investire 3000 dollari che i tempi ovviamente erano molti e li investe nella costruzione appunto di questo terzo piano da quello che ho letto amici holmes era un uomo molto ma molto abile nel manipolare le persone chiunque abbia avuto a che fare con lui racconta che holmes era il tipo di uomo che poteva convincerti che il nero fosse verde o convincerti di qualsiasi cosa era come se holmes stregasse la gente infatti il dottor lawrence accetta e holmes avvia questo progetto ma dovete sapere che il fine di holmes ovviamente non era davvero quello di ospitare le persone non gliene poteva fregare di meno e questo lo si evince dal modo in cui fa costruire questo terzo piano perché tutte le stanze erano delle vere e proprie camere a gas progettate per uccidere chiunque si trovasse all'interno le porte potevano infatti essere bloccate e i muri foderati con l'amianto rendevano il locale un compartimento stagno dal quale era impossibile uscire e liberarsi in questo modo holmes riempiendo la stanza di gas asfissiante poteva dare fuoco al gas presente nell'ambiente e essendo i muri rivestiti di amianto e completamente isolati poteva evitare così il propagarsi della combustione era appunto una vera e propria camera a gas una trappola mortale non solo in una delle stanze segrete si trovava un forno crematorio dove con tutta probabilità holmes bruciava i corpi delle sue vittime affinché non restasse alcuna traccia c'erano inoltre botole nascoste sul pavimento delle stanze collegate con uno scivolo ad una stanza nel seminterrato piena di acido che faceva sciogliere i corpi all'istante c'erano spioncini nascosti in ogni stanza che permettevano a holmes di guardare di essere l'unico spettatore di queste morti strazianti e la struttura di questo edificio era stata creata a mo di labirinto i piani erano collegati tra loro da scale e corridoi senza via d'uscita che finivano il più delle volte contro un muro H.H. Holmes non aveva costruito un albergo per ospitare i visitatori della fiera no aveva costruito un castello della morte una vera e propria trappola per topi anche se amici è mio dovere dirvi che non ci sono prove che tutto ciò sia vero intendo riguardo la struttura del castello holmes aveva davvero costruito un edificio di tre piani ma non è mai stato provato che avesse davvero costruito camere a gas forni crematori scivoli che portavano a piscine piene di acido pare che in realtà questo castello sia sempre rimasto mezzo vuoto e che la storia del castello della morte sia stata solo una speculazione di molti giornali dell'epoca per dare un po di colore alla vicenda come se ce ne fosse bisogno però ripeto non si sa potrebbe anche essere tutto vero io ve l'ho detto perché è giusto così comunque andiamo avanti con la storia durante la costruzione dell'imponente castello holmes assume e licenzia centinaia di lavoratori ogni volta usando scuse diverse per liberarsi della loro presenza e la ragione per cui h h holmes assumeva e licenziava in continuazione lavoratori e collaboratori era perché nessuno si doveva accorgere del vero obiettivo per cui stava costruendo questo immenso edificio esteticamente molto bello ma al tempo stesso inquietante con il suo sistema di licenziamenti si liberava efficacemente di potenziali testimoni cioè per farvi un esempio ad alcune persone faceva costruire le botole sul pavimento e poi li licenziava ad altri faceva costruire i muri da mianto e poi li licenziava a ciascuno faceva costruire una piccola parte così che non avessero mai il quadro completo della costruzione così che non arrivassero mai ad unire tutti i punti e a capire quale fosse il piano finale di holmes quale fosse la funzione reale di quell'edificio holmes aveva anche equipaggiato varie stanze trasformandole in vere e proprie camere da tortura dotate di attrezzatura chirurgica in queste stanze faceva a pezzi le sue vittime le sezionava le scarnificava e talvolta conduceva anche esperimenti o praticava torture anche solo per puro diletto come hobby questa parte probabilmente è vera in quanto da sempre come vi dicevo all'inizio holmes rivendeva cadaveri o scheletri alle scuole di medicina era un modo come un altro per guadagnarsi dei soldi e a questo punto viene da chiedersi come è possibile che nessuno si sia mai accorto di niente ebbene pare che per molto tempo nessuno sospettasse di nulla holmes agisce per molto tempo indisturbato nonostante ci fossero numerose sparizioni nella zona sulle quali nessuno ha mai indagato a fondo comunque a questo punto holmes vive nel suo castello insieme alla moglie myrtle che pare fosse ignara di tutto ignara del fatto che suo marito fosse un truffatore ma anche uno spietato serial killer e insieme nel 1889 danno alla luce una figlia di nome lucy nel 1890 hh holmes tramite un annuncio sui giornali recluta un nuovo socio che avrebbe dovuto aiutarlo nella gestione degli affari un uomo di nome ned conner che insieme a sua moglie una bellissima donna di nome julia smite fa a vivere in uno degli appartamenti del castello ben presto però holmes inizia a trovare molto interessante la compagnia della moglie di ned julia che infatti diventa la sua nuova amante ma la cosa non rimane segreta a lungo infatti ned il marito di julia lo scopre e quando lo scopre decide di lasciare sia lei che la loro figlia pearl e di andare via julia e pearl che era una bambina di circa sei anni quindi rimangono nel castello julia continua la sua relazione clandestina con holmes e inizia anche a lavorare per lui come cassiera in uno dei suoi negozi in uno dei negozi dentro al castello ma nel 1891 il giorno della vigilia di natale julia e sua figlia pearl di soli sei anni spariscono non si sa per certo come siano morte ma successivamente holmes racconterà la seguente versione julia era rimasta incinta di lui e la cosa lo aveva mandato nel panico un figlio illegittimo con questa donna che era la sua amante sarebbe stato un grosso scandalo di conseguenza aveva promesso a julia che le avrebbe sposata solo se prima lei avesse abortito l'aborto ai tempi era una pratica assolutamente illegale e di conseguenza moltissime donne morivano perché si rivolgevano a medici di fortuna per interrompere le gravidanze indesiderate e la mia opinione è che holmes lo sapesse cioè secondo me aveva calcolato tutto aveva manipolato julia facendole credere che la scelta di abortire fosse sua e poi una volta sotto i ferri perché ovviamente lui è stato il dottore ad occuparsi dell'operazione julia è morta holmes lo racconta come un incidente perché come già detto ai tempi moltissime donne morivano durante questa pratica diceva di non averla uccisa intenzionalmente ma noi ci crediamo no inoltre nella cantina del castello successivamente verranno anche ritrovati dei resti lo scheletro di quella che poteva essere una bambina dai 6 ai 10 anni quindi intorno agli anni di pearl la figlia di julia non sono mai riusciti ad identificarla quindi non c'è la certezza che fosse lei ma insomma in molti pensano che holmes semplicemente si sia sbarazzato di julia e poi di sua figlia pearl e che le abbia uccise entrambe perché erano diventate di intralcio si dice anche che holmes abbia venduto il corpo di julia ad un uomo un certo charles chapel il quale aveva già partecipato ai lavori del castello fin dal 1889 e ancora ci lavorava prima di iniziare a collaborare con holmes chapel aveva lavorato presso la bennett medical school era un uomo piuttosto curioso e pur non essendo il suo mestiere osservando il lavoro di medici e studenti della facoltà di medicina aveva acquisito una particolare abilità nell'articolare gli scheletri che sarebbero poi stati destinati ad essere esposti appunto negli studi dei dottori e studiati quindi si dice che holmes abbia venduto il corpo di julia a chapel per fargli articolare il suo scheletro e guadagnarci ovviamente dei soldi e questo comunque holmes lo aveva sempre fatto no di vendere i corpi alle scuole di medicina per guadagnarci dei soldi solo che a quanto pare prima trafugava questi corpi dai cimiteri ora invece direttamente vendeva i corpi delle sue vittime andando avanti amici un'altra vittima che si è infatuata fatalmente di holmes è una donna di nome emeline seagrand una stenografa di lafayette nell'indiana che dal luglio del 1891 aveva iniziato a lavorare a dwight in illinois in un sanatorio per alcolizzati e in quello stesso sanatorio si trovava in quel periodo anche benjamin paizzo che se vi ricordate è l'assistente di holmes quello che lo ha aiutato come abbiamo visto anche nella progettazione del castello paizzo si trovava in quel sanatorio perché aveva dei seri problemi con l'alcol e stava tentando di disintossicarsi paizzo rimane colpito dalla bellezza di emeline e le racconta del suo lavoro come collaboratore di un uomo affascinante e ricco h.h holmes appunto paizzo va da holmes e gli confida di aver fatto questa nuova conoscenza emeline e a quel punto lo stesso holmes intrigato dalla vicenda decide di scrivere a questa ragazza offrendo anche a lei un lavoro nel suo castello promettendole un guadagno mensile superiore del 50 per cento rispetto a quello che la donna percepiva nel sanatorio la ragazza ovviamente non esita neanche un attimo prima di accettare e così si trasferisce e prende alloggio in una pensione a poche centinaia di metri dal castello holmes comincia allora a sedurla la portava in giro a fare gite turistiche per chicago le comprava fiori le offriva cene tutto questo sempre nascondendosi abilmente da sua moglie myrtle emeline finisce suo malgrado per innamorarsi di quell'uomo che pareva così gentile premuroso e scrive una lettera alla sua famiglia raccontando del suo nuovo amore holmes con una certa furbizia le raccomanda di utilizzare nel momento in cui faceva riferimento a lui uno pseudonimo al posto del suo vero nome che già comunque non si trattava del suo vero nome ma comunque è questo perché nel frattempo holmes stava divorziando da sua moglie myrtle e non voleva che scoprisse della sua nuova relazione così da non rovinare il divorzio insomma così da farlo andare più liscio possibile ma ovviamente anche questa era una bugia amici che ve lo dico a fare prima di tutto holmes non era neanche sposato legalmente con myrtle perché vi ricordate lui è legalmente ancora sposato con la sua prima moglie clara ma nessuno sapeva queste cose holmes ogni volta che apriva bocca mentiva e tutti intorno a lui credevano alle sue menzogne soprattutto le donne che seduceva infatti anche emeline cade nel tranello scrivendo appunto alla sua famiglia di aver conosciuto un certo robert e phelps un uomo ricco bello che presto l'avrebbe sposata e con cui avrebbe intrapreso un lungo viaggio di nozze in giro per il mondo per fortuna qualcuno la mette in guardia avvertendola che holmes poteva anche non essere esattamente ciò che sembrava e pare pare che questo qualcuno fosse ned il marito di giulia vi ricordate giulia una delle vittime di holmes tuttavia emeline non vuole sentire ragioni ormai ne è innamorata e vuole andare fino in fondo sicura di aver trovato l'uomo della sua vita holmes però dopo un po di tempo quando è stanco della presenza della donna nella sua vita decide di ucciderla l'uomo successivamente confesserà di averle tolto la vita ma farà una confessione molto colorita amplificando la realtà molto probabilmente racconta infatti che un giorno del 1892 aveva chiesto ad emeline di recuperargli delle buste nella camera blindata ed emeline lo aveva fatto una volta entrata nella camera blindata aveva cominciato a cercare le buste mentre nel frattempo la luce dell'altra stanza era venuta a mancare la giovane non si era accorta che holmes aveva chiuso la porta della camera blindata finché non si era ritrovata completamente immersa nel buio emeline ad un tratto si rende conto che la sua vita era in pericolo e che rischiava niente meno che una delle peggiori morti possibili sarebbe soffocata lentamente dopo aver bruciato tutto l'ossigeno presente in quella stretta camera blindata fredda e buia holmes racconta di essere tornato a lavorare mentre come sottofondo non cessavano le grida e il pianto di emeline che sono durate per ore fino a tramutarsi in un rassegnato silenzio un silenzio di morte holmes racconta poi di aver riaperto la camera blindata e di aver portato il suo cadavere nella sala operatoria e di averlo completamente privato della pelle e di numerose porzioni di carne prima di preparare un perfetto scheletro insieme al suo collaboratore chapel che abbiamo visto prima lo scheletro di emeline insegrand viene venduto alla la sal medical school una scuola di medicina e anche questo fu pagato molto bene ora vedete anche qui io non ho dubbi che holmes abbia veramente ucciso emeline come sempre per soldi e non ho dubbi che abbia articolato il suo scheletro e che lo abbia venduto alla scuola di medicina ma che l'abbia uccisa in quel modo così teatrale nella sua camera gas del suo grandioso castello di morte non lo so in ogni caso purtroppo giulia e emeline non sono le uniche donne che hanno lavorato per holmes e che hanno trovato la morte per mano sua e tra l'altro un'altra cosa che non vi ho detto è che uno dei requisiti fondamentali per poter lavorare per holmes era firmare una polizza assicurativa sulla vita di svariate migliaia di dollari che a morte avvenuta il sedicente medico intascava cioè bandierina rossa amici se un datore di lavoro vi chiede di fare assolutamente un'assicurazione sulla vita prima di lavorare per lui come commessa o cassiera c'è qualcosa che non va ma a quei tempi ripeterà tutto diverso e le persone erano molto più ingenue non c'era il livello di informazione di consapevolezza che c'è oggi ma questo è l'ennesimo aneddoto che dimostra che holmes uccidesse fondamentalmente per il mero denaro un'altra vittima di holmes e jenny thompson una ragazza di 17 anni che aveva detto ai genitori che sarebbe andata a new york e che invece era rimasta a chicago all'insaputa di tutti una vittima perfetta per holmes considerando che per nessuno si trovava lì holmes racconta di aver ucciso anche lei come emeline seagrand nella camera blindata facendola soffocare lentamente dopo essere stata soffocata holmes la porta nella sua sala operatoria dove di nuovo le strappa tutta la pelle e facendola diventare un altro perfetto e lindo scheletro che poi anche questa volta vende ad una scuola di medicina la university of illinois medical school traendone il consueto profitto e tutto questo tutto quello che vi ho raccontato finora avviene prima della famosa fiera vi ricordate quella fiera importantissima che si sarebbe tenuta a chicago nel 1892 molti pensano che h h holmes abbia costruito il castello o meglio il terzo piano che sarebbe quello pieno di trappole della morte appositamente per le persone che quella fiera avrebbe attirato ma questa non è la realtà perché come abbiamo visto prima ancora che la fiera iniziasse anni prima holmes aveva già ucciso svariate persone nel 1893 holmes conosce una nuova donna di nome minnie williams che assume nel castello come stenografa e che ovviamente cerca di sedurre ma minnie aveva bisogno di certezze holmes aveva promesso anche a lei che avrebbe lasciato sua moglie e che dopo l'avrebbe sposata ma minnie non gli credeva voleva che lo facesse subito non voleva aspettare c'è molta gente che è convinta che minnie non fosse l'ennesima donna caduta vittima di holmes ma piuttosto una sua complice molti credono che lei fosse a conoscenza di tutto l'operato di holmes soprattutto delle truffe che l'uomo faceva continuamente ma di questo non abbiamo nessuna prova e la verità è che che minnie fosse una complice o meno la cosa comunque non l'ha aiutata perché alla fine anche lei verrà uccisa senza pietà fino a quel momento però amici holmes e minnie faranno finta di essere sposati e si facevano chiamare il signore la signora gordon holmes e pare che passasse alcuni giorni alla settimana con minnie e i restanti giorni con la sua altra moglie ve la ricordate sempre la povera myrtle lei c'è sempre e a quanto pare sempre ignara di tutto o almeno così si dice poco tempo dopo arriva in città anche la sorella di minnie una donna di nome nanny minnie e nanny sì nanny era arrivata a chicago proprio per la famosa fiera e a questo punto se ci pensate holmes si sta barcamenando tra due vite separate tra due famiglie separate perché nanny vive proprio con lui e la sua finta moglie minnie per un po e ovviamente amici holmes non ci mette molto a decidere che era arrivato il momento di sbarazzarsi di minnie e nanny quella situazione era un po troppo complicata per i suoi gusti le due donne sono state viste per l'ultima volta il 5 luglio del 1893 e dopodiché di loro non si sa più nulla come al solito non si sa per certo il modo in cui holmes le ha uccise o dove abbia nascosto i loro resti perché le informazioni come ho già detto sono vaghe e confuse e distorte perché appunto il caso è troppo vecchio pare che holmes abbia confessato di averle uccise e di aver messo i corpi delle donne nel bagagliaio del suo furgone e di averlo gettato in un lago ma poi si è rimangiato tutto ed essendo un bugiardo patologico ovviamente è difficile credere a qualsiasi cosa esca dalla sua bocca una cosa è certa holmes con l'aiuto del suo assistente benjamin pietzel era riuscito a farsi intestare tutte le proprietà che minnie williams possedeva in texas a novembre dello stesso anno 1893 infatti holmes decide di scomparire per un po e questo perché i creditori erano sempre più alle sue calcagna e anche la polizia stava iniziando a indagare su di lui ma non per i delitti non ancora perlomeno ma per tutte le truffe che continuava a fare e per tutti i soldi che doveva le persone quindi holmes decide di fuggire ma non ha assolutamente intenzione di portare con sé anche la moglie myrtle e sua figlia lucy che nel frattempo ha quattro anni no decide invece di portare con sé un'altra l'ennesima donna una certa georgiana yoke una commessa di un negozio di 24 anni che holmes descrive come giovane ingenua e molto romantica una preda perfetta per lui di conseguenza amici il 9 gennaio del 1894 h h holmes e georgiana yoke si dirigono a denver in colorado e lì si sposano entrambi usando un falso nome quindi amici siamo a quota tre matrimoni forse quattro considerando che holmes fingeva di essere sposato anche con minnie e di questi matrimoni comunque l'unico reale e legale rimane solo e soltanto il primo ma va bene collezioniamo matrimoni falsi come le figurine dopo il matrimonio holmes e georgiana si trasferiscono in texas e lì cambiano di nuovo nome diventando il signore e la signora pratt ad aspettarli in texas c'era l'assistente di holmes ve lo ricordate sempre benjamin peitzel ecco holmes e peitzel mettono in atto ulteriori frodi in texas finché ai due non viene un'idea geniale vi ricordate all'inizio vi ho detto che holmes faceva quelle truffe legate all'assicurazione sulla vita cioè metteva in scena la morte finta di qualcuno sostituendo la persona con un cadavere che trafugava da qualche cimitero lo sfigurava così da renderlo irriconoscibile e poi si intascava i soldi della polizza sulla vita dividendola con la persona che si era prestata alla cosa la persona che aveva finto di morire ecco holmes e peitzel decidono di fare la stessa cosa avrebbero finto la morte di peitzel lui avrebbe messo la moglie carrie peitzel come beneficiaria della sua polizza sulla vita così che dopo avrebbe potuto intascare i soldi e dividerli con lui e con holmes ma la verità è che holmes non aveva nessuna intenzione di trovare un corpo da sostituire a peitzel il suo piano era di usare per la truffa lo stesso corpo di peitzel aveva intenzione di ucciderlo davvero il 2 settembre del 1894 il suo piano si mette in moto per prima cosa va nel suo appartamento e fa ubriacare peitzel così tanto da essere incapace di difendersi e questo perché se vi ricordate peitzel aveva un serio problema con l'alcol quindi non è stata una cosa troppo complicata una volta che il suo assistente era così sbronzo da non reggersi neanche in piedi holmes prende dalla tasca del cloroformio e gliene fa inalare dosi sempre più alte fino ad ucciderlo holmes voleva far credere al coroner che avrebbe esaminato il corpo di peitzel che l'uomo si era tolto la vita utilizzando il cloroformio e anche che fosse morto anche a causa di un'esplosione una morte poco credibile perché come fa una persona ad uccidersi col cloroformio sostanza che comunque ti fa addormentare prima di tutto e allo stesso tempo farsi anche esplodere era una morte sicuramente inusuale ma secondo lui avrebbe funzionato la parte dell'esplosione la mette in atto più che altro per sfigurare il viso di peitzel e questo per non farlo riconoscere alla sua famiglia perché la famiglia di peitzel era d'accordo cioè loro erano convinti che quella fosse tutta una truffa come gli aveva detto holmes pensavano che il vero peitzel si stesse nascondendo e che quello fosse solo un corpo piazzato lì da holmes la cosa comunque non chiedetemi come funziona holmes ritira i soldi dell'assicurazione di peitzel che erano circa 11 mila dollari e ne dà una parte alla moglie carri ne dà precisamente 500 miseri dollari a carri questo spilorcio di hh holmes carri moglie di peitzel con cinque figli a carico che poverina è sempre stata convinta che suo marito fosse ancora vivo ma che dovesse rimanere nascosto per un po ovviamente e holmes glielo fa credere ma nel frattempo ha trovato le sue nuove vittime da manipolare ovvero carri e i suoi tre figli più grandi alice nelly e howard holmes convince carri a dare a lui i tre figli più grandi la convince dicendole che dovevano seguire tutte le sue istruzioni alla lettera se volevano rivedere il loro padre e così il 30 settembre prende i tre figli alice peitzel di 15 anni nelly peitzel di 12 e howard peitzel di 8 e li porta con sé ad indianapolis dicendo loro che il padre benjamin li avrebbe raggiunti proprio lì stanno ad indianapolis per un po di giorni alice e nelly scrivono diverse lettere alla loro mamma raccontandole di come passavano le giornate con holmes che nelle lettere chiamavano mister h erano andate allo zoo avevano visto gli struzzi queste lettere però non vengono mai recapitate alla loro mamma e la cosa più assurda amici e crudele è che la signora peitzel e i suoi due figli più piccoli alloggevano solo a pochi isolati da lì cioè holmes stava facendo spostare l'intera famiglia peitzel a suo piacimento facendoli però viaggiare separati quindi i tre figli più grandi viaggiavano con lui e sua moglie georgiana e la signora peitzel e i due figli più piccoli viaggiavano da soli e li faceva anche stare in hotel diversi con nomi falsi ma senza dirglielo cioè carrie non sapeva che i suoi tre figli più grandi si trovavano in una in un hotel a due isolati di distanza e i suoi tre figli le scrivevano lettere dicendole che sentivano la sua mancanza senza sapere che anche la loro mamma si trovava nella stessa città il 10 ottobre howard il figlio di otto anni di peitzel viene visto intorno all'ora di cena vagare per l'hotel chiedendo del cibo perché a quanto pare holmes gli aveva dato questo compito procacciarsi del cibo per la cena e quella è stata l'ultima volta che qualcuno lo ha visto in vita quella sera infatti holmes mette del veleno nel suo piatto un misto di cianuro e altri tipi di veleni chiaramente letali per il piccolo successivamente aveva tagliato a pezzi il suo corpo e aveva bruciato i resti nel camino il giorno dopo holmes prende alice e nelly le sorelle del piccolo howard e sua moglie georgiana dice loro che c'è stato un cambio di programma e che benjamin non poteva incontrarli ad indianapolis e quindi dovevano andare via e tutti insieme si dirigono in canada dice anche però che howard il piccolo howard sarebbe rimasto a indianapolis qualcuno si sarebbe preso cura di lui e quindi di non preoccuparsi arrivano in canada a toronto sempre tutti insieme ma viaggiando sempre separati come vi ho detto prima e il 25 ottobre affitta una casa in cui porta solo le figlie di carrie nelly e alice e qui purtroppo amici le uccide anche qui non è chiaro il modo non si sa con certezza come le abbia uccise holmes successivamente racconterà di averle convinte a infilarsi all'interno di un baule e di aver messo un tubo all'interno da cui fuori usciva del gas ma non so perché mi sembra un'altra l'ennesima bugia anche perché verrà dimostrato che in quella casa non c'era neanche il gas quindi ennesima bugia ma purtroppo è una bugia solamente il come perché di fatto i tre figli di peitzel sono davvero stati uccisi da holmes comunque a questo punto rimanevano solo la signora peitzel e i suoi due figli più piccoli da far fuori ma dovete sapere che a questo punto la polizia era già e finalmente sulle tracce di holmes i detectivi di una famosa agenzia investigativa la pinkerton agency erano infatti sulle sue tracce avevano iniziato ad accumulare una grande quantità di informazioni su su tutte le frodi commesse da chicago al texas un po ovunque avevano allora iniziato a seguirlo passo passo seppure con una certa difficoltà perché da sospettato qual era holmes cambiava continuamente città come abbiamo visto insieme alla famiglia peitzel e alla moglie georgiana e la reale ragione dietro a questi spostamenti era chiaramente il tentativo di seminare chiunque avesse intenzione di seguirne le tracce gli spostamenti successivi di holmes sono un po confusi e poco chiari quello che si sa è che riappare a boston il 13 novembre con l'intenzione di far andare lì anche la signora peitzel e i suoi due figli più piccoli per finire il lavoro per far fuori anche loro ma è probabile che holmes fosse troppo distratto per coprire bene le sue tracce come aveva fatto fino a quel momento perché boston sarà l'ultima tappa per lui finalmente a boston con l'aiuto di frank guyer un veterano della polizia holmes viene arrestato il 17 novembre del 1894 all'inizio lo arrestano per le numerosi frodi commesse ma non ci mettono molto a capire che c'era molto di più ma appunto era difficile star dietro a holmes e a tutte le bugie che diceva mentiva su dove si trovavano tutte le sue amanti gli ospiti che sparivano dal suo hotel nel luglio del 1895 però la polizia trova i corpi senza vita di nelly e alice peitzel seppellite nella cantina della casa che aveva affittato a toronto e quando lo interrogano in merito a questo lui risponde beh suppongo mi impicteranno per questo vengono trovati anche i resti del piccolo howard bruciati nel cammino della stanza in cui lo aveva avvelenato viene arrestata anche carrie peitzel per frode anche se lei sosteneva di non saperne nulla e pare sia addirittura svenuta una volta arrivata alla centrale di polizia per holmes comunque sembrava fosse giunta alla fine e così è stato in breve tempo viene fuori tutta la verità o quasi tutta dato che la vera verità non si conosce neanche oggi ispezionando il suo castello che ad un certo punto è andato in parte distrutto dalle fiamme la polizia trova numerosi scheletri ancora interi e una grande quantità di ossa semicarbonizzate incluso il bacino di una ragazzina di 14 anni holmes nonostante le prove schiaccianti contro di lui insiste dicendo di non aver nulla a che fare con questi delitti e che quasi certamente stando a quello che cercava di dimostrare erano stati commessi da qualcun altro nessuno ha mai saputo di preciso quante siano state le vittime di hh holmes la polizia di chicago ha calcolato in modo piuttosto approssimativo che dovevano essere almeno 150 e questa è una di quelle informazioni che è stata amplificata e colorata anche dai media il dottor morte che ha ucciso centinaia di persone ma sinceramente io dubito che abbia ucciso centinaia di persone e persino holmes ne confessa solamente 27 solamente tra virgolette ovviamente a questo punto della storia amici tutti i giornali dell'epoca parlavano di quest'uomo di questo mostro che aveva costruito un castello appositamente per ospitare i turisti e poi togliergli la vita nei modi più orrendi e come vi ho già detto nel corso di tutto il video hanno colorato moltissimo i fatti inventandosi direttamente moltissime cose che purtroppo col tempo sono diventate parte della sua figura della sua leggenda tramandandosi fino ad oggi pare infatti che molte delle cose che leggerete su internet a proposito di quest'uomo siano false comprese appunto come vi ho già detto molte cose riguardanti il suo castello di morte molti infatti ritengono che non sia vero che holmes abbia trasformato le camere in forni che avesse lo scivolo che andava in cantina come vi ho detto all'inizio del video anche gli spioncini da cui lui guardava morire lentamente la gente nelle loro camere pare sia tutta un'invenzione dei giornali su cui holmes ha marciato moltissimo holmes era un assassino sì assolutamente sì era un truffatore che uccideva per soldi prevalentemente comunque infine herman webster madgett alias h.h holmes viene processato nell'autunno del 1895 e condannato a morte tramite impiccagione cosa che avviene il 7 maggio del 1896 il corpo di h.h holmes attualmente giace all'holicross cemetery a filadelfia all'interno di una tomba riempita di cemento e senza lapide sebbene il suo nome sia scritto nel registro del cimitero di certo amici se saranno molti a ricordare le sue atrocità quasi nessuno su quella tomba poserà dei fiori e dovete sapere che qualche anno dopo la sua esecuzione un nuovo incendio distrusse definitivamente il castello degli orrori ponendo fine per sempre alla storia del dottor morte questa amici era la storia di h.h holmes e questo per oggi è tutto fatemi sapere se conoscevate già questo caso ringrazio nuovamente ancora una volta lo sponsor di oggi the devil in me sono sicura che se ci giocherete farà tutta un'altra impressione dopo aver ascoltato la storia di h.h holmes e io come sempre vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video ciao 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 ciao